Cosa racconta il tuo libro? Allora, racconta di un mondo capovolto in cui siamo noi che andiamo in Africa, perché lì c'è tutto, siamo noi che viviamo in un mondo pieno di guerre, di carestie, di disastri tremendi e quindi tocca a noi andare verso il sogno che questa volta non è l'Europa ma per noi è l'Africa, che è il paese dove c'è tutto in realtà. Per capovolge della prospettiva hai scelto la Germania addirittura? Sì, perché in realtà il libro parla di una famiglia italiana che però è già emigrata in Germania perché avevo bisogno, per renderlo verosimile la storia, che il viaggio fosse abbastanza lungo. Voglio dire, se partire dall'Italia per arrivare in Africa era troppo breve, invece avevo bisogno di un viaggio un po' più lungo. È un romanzo distopico ma anche un romanzo di formazione della protagonista. Sì, perché la cosa interessante è che poi lei è una ragazzina di 16 anni però è un adolescente come tutti quelli di tutti, insomma non cambiano, gli adolescenti sono sempre gli stessi e nel corso della storia, ahimè, cresce molto, diventa adulta in un tempo molto breve. Anche scrivendo, tra virgolette, un romanzo per un lettore più adulto non hai trascurato i tuoi amati adolescenti? No, beh, certo, io non posso distaccarmi da loro, per cui racconto una storia che li riguarda e anzi mi piacerebbe che oltre agli adulti anche per esempio agli adolescenti lo leggessero perché credo che cambiare il nostro punto di vista aiuterebbe molto anche loro per avere poi degli adulti forse un po' meglio di noi.